amici bentornati su 9000 giri elaborazione autosportive oggi parliamo dell'ennesimo problema su questo motore 1.6 thp che fa dannare tutti coloro che hanno la maggior parte di coloro che hanno un tipo di macchina con questo tipo di motore nello specifico abbiamo già presentato un tempo fa un lavoro più o meno analogo su una crz ce ne sono capitati altri che non abbiamo filmato diciamo che ultimamente questo motore qua devo dire che ha aumentato la frequenza di problematiche ce ne capitano veramente con una frequenza incredibile in sostanza il cliente è venuto da noi lamentando il fatto che la macchina a parte con la spia motore accesa la macchina consumava un chilo e mezzo ogni mille chilometri non 800 mila quindi completamente fuori fuori range completamente fuori standard e quindi ce l'ha lasciata per controllare quello che potevano essere le problematiche sapendo già che più o meno dove andavamo a parare devo dire che in questo caso le problematiche le ha beccate tutte a 360 gradi cioè mentre in altre situazioni ci siamo limitati ad alcuni aspetti che comunque sono endemici su questo tipo di macchina in questo caso la perdita d'olio in sostanza ha interessato tutti i componenti possibili immaginabili quindi partiamo dal discorso turbina si vede quella turbina è completamente nuova quindi rifatto il turbo perché la spia motore accesa aveva creato appunto un problema sulla turbina quindi la turbina comunque era da revisionare quindi revisione turbo una parte dell'olio veniva mangiato direttamente la turbina poi rimontata la turbina rifatta la prova abbiamo fatto la prova di compressione abbiamo visto che la testa aveva dei valori anomali quindi tirata giù la testa sedi valvole rifatte completamente perché le sedi valvole non chiudevano più in maniera ermetica e quindi abbiamo dovuto rifà questo punto non solo rifare il diciamo la la spinatura della testa ma rifare proprio le valvole ex novo con le guide valvole i piattelli le valvole nuove in maniera tale da andare a chiudere ermeticamente perché un'altra perdita di olio derivava dalla chiusura delle valvole e non contento e questo devo dire che questi due casi sono quelli più frequenti su questo genere di motori il c'è capitato in questo caso che la perdita d'olio interessasse anche le fasce dei pistoni quindi non solo un discorso di testa turbina ma abbiamo dovuto anche sfilare da sotto dall'albero motore tirando giù la biella e il pistone il pistone per fortuna era posto la camicia del cilindro era posto quello che non era posto erano le fasce di scorrimento del pistone non avevano più una tolleranza come dire un serraggio diciamo specifico e anche da lì trafilava olio per cui veniva combusto e scartato poi dal dallo scarico quindi un caso come questo gente raramente ci capita ovviamente il cliente quando consegneremo la macchina l'abbiamo già avvertito spende una cifra superiore rispetto a quello che hanno speso altri clienti però purtroppo in situazioni come queste o si fanno tutti e tre i lavori infatti all'inizio avevamo valutato col cliente se effettivamente poteva valer la pena o meno intervenire perché abbiamo iniziato con uno poi abbiamo visto che c'erano anche gli altri due componenti abbiamo fatto un preventivo globale è venuto a fare una cifra chiaramente diversa dal fatto di revisionare una semplice turbina il cliente ha fatto la sua valutazione ci ha dato l'ok per proseguire però sono ripeto dei costi che una macchina su un motore non è tanto la macchina purina non è questa la 308 peugeot non è quello la macchina è proprio il tipo di di motore questo tipo di motore viene montato su non solo su parecchie su praticamente su tutte le macchine francesi diciamo di una certa epoca veniva montato anche su alcune versioni della mini questo tipo di motore qua è un motore estremamente problematico secondo me passatemi il termine peggio di questo forse c'è il motore volkswagen è quello dei tempi il famoso quello che montavano sulle golf gt della diciamo di tre serie fa la la golf si golf 5 gt che era un motore biturbo cioè biturbo non è proprio il termine esatto aveva un compressore volumetrico è una turbina un motore di una delicatezza pazzesca tant'è vero che il gruppo volkswagen l'ha tenuto in listino per un anno e poi sono state talmente tante le grane che hanno avuto l'hanno tolto di produzione quello secondo noi possa essersi anche dei peggiori ma quel motore lì sicuramente di tutti quelli che abbiamo visto li batte tutti ecco subito dopo un'incollatura c'è questo tipo di motore qua purtroppo dispiace dirlo ma queste sono appunto problematiche tecniche di progettazione quindi qui non si tratta di un un cattivo utilizzo o un discorso sporadico per cui quel quella macchina di quel particolare cliente è stato particolarmente sfortunata questi sono motori a rischio già quando quando nascono quindi c'è poco da da girare attorno al problema erano motori che dovevano essere studiati e costruiti sui quali sarebbe stato opportuno anche al di là di un discorso progettuale lì proprio discorso anche di materiali su quali sarebbe stato opportuno utilizzare dei materiali inversi cioè nel momento in cui al di là della turbina d'accordo ma ci sono le sedi valvole che non tengono bastava studiare delle sedi valvole fatte in un materiale diverso piuttosto che un discorso di fasce o di pistoni studiati in maniera diversa cioè non è che ci voglia uno progetto un motore si suppone che il motore venga anche testato in maniera massiccia prima di metterlo in produzione qui significa che hanno fatto il loro test ma qualcosa gli è sfuggito perché poi l'hanno messo in produzione addirittura l'hanno diffuso non solo su una specifica macchina come il motore che avevo detto prima della della golf l'hanno diffuso su tantissimi modelli e tutti questi modelli qua non solo del gruppo psa peugeot ma anche appunto mini e quant'altro hanno avuto le stesse problematiche quindi veramente a livello commerciale di marketing è stato un secondo me un fallimento allucinante detto questo speriamo che sia valsa la pena per il cliente spendere appunto questa cifra lui ci teneva tantissimo da avere questa macchina in piena efficienza siamo contenti di aver tecnicamente risolto il problema ci auguriamo di che il cliente si goda la macchina più lungo possibile prima di chiudere volevo far notare il dettaglio della madonnina sul sul parabrezza ecco diciamo che quella madonnina lì secondo me questa macchina qui secondo me ha bisogno effettivamente di quel genere di supporto religioso perché sennò se ne ha vista una più di bertoldo io direi anche per questa per questa avventura per questa peugeot e tutto ci potete contattare in sede quando volete io sono sempre disponibile lunedì e venerdì cliccate sulla campanella in basso a destra e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre informati su tutto quello che noi diciamo un saluto alla prossima iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale